Secondo me One Mic hanno dimostrato che potevi essere anche te stesso, perché noi non abbiamo mai esaltato storie di strada, io e Alex potevamo parlare di tante cose, non l'abbiamo mai fatto in quella chiave, non abbiamo mai messo davanti le nostre difficoltà per sembrare più cool, non abbiamo mai messo di fronte i nostri risultati ottenuti per sembrare più fighi, abbiamo parlato delle nostre cose, abbiamo parlato dei rapporti, è quello che è rimasto alla gente. Sicuramente eravamo tre ragazzi di periferia, delle periferie di Torino e ovviamente per ragioni proprio di famiglia, io e lui viviamo anche adesso, ce l'avevamo già visti, ce l'avevamo già visti a qualche parte, e invece con Marco mi sono conosciuto a Reggio e abbiamo iniziato prima io e Terta, perché tu stavi già facendo il tuo primo demo, non sapevo neanche quanto doveva essere lunga una strofa, arrivai a registrare la prima strofa nel demo vostro, il featuring mio, a nome Hansi, The Bad Fat, faceva già ridere, mi piaccia sta roba di feggiono, e mi ricordo che ho finito di registrare e tutti mi hanno guardato come per dire, ma ne manca una frase, e io questa cosa dicevo, ma che cazzo dici? No, è giusto, perfetto, no? Ma chiaramente, ripeto, a parte quelle dinamiche da fratelli, dove ovviamente non vai, soprattutto negli anni dell'adolescenza non vai troppo d'accordo, non siamo stati poi così tanto in conflitto, mi ricordo chiaramente quando mio fratello entrò in camera, una sera mi ha sentito fare freestyle e mi aveva detto se era veramente freestyle, pensavo che era magari delle robe appuntate, e io gli dissi no, e lui mi disse, guarda che se il tuo livello è questo, a Torino sei il più forte. E' venuto fuori che io sapevo fare le cose, quindi il loro terreno di confronto era lo stesso mio, e dici ok, è acerbo, c'ha sicuramente delle cose da sistemare, devi imparare a contare le barre, però ce l'ha. Ho lasciato questa pausa che era abbastanza evidente, per fare come i politici che parlano e non dicono niente. La nostra musica è stata forte proprio perché magari io facevo un po' più d'agogo della bilancia su alcune robe, loro avevano proprio più l'istinto, l'estrol, la sfacciataggine anche quindi, la cosa secondo me più bella e importante è stata proprio la formazione a livello personale. Quindi abbiamo proprio costruito tutto da zero, e Iari veramente ha iniziato a prendere, cioè a seguire noi, a vedere le cose, e poi ovviamente aveva un talento che gli è stato riconosciuto e tutto, quindi è stato un processo molto naturale. E' stato un processo del tutto naturale che l'ha portato a lavorare insieme. Chiaramente fra fratelli c'è sempre un po' di conflitto. Pensavi solo ad andare in motorino. Sì, andavo in motorino, però comunque facevo il mio rap, facevo freestyle, anche se non mi avevano beccato. Ovviamente io avevo un po' di invidia del fatto che mio fratello più grande facesse questa roba. In casa c'è da dire che non abbiamo avuto noi due una grossa cultura musicale. Non siamo figli d'arte in qualche modo, mio padre non aveva una grande collezione di dischi. Ascoltavano poca roba italiana, un po' mista. Torino credo che conti qualcosa come 800-900 mila abitanti, ma se unisci la provincia ne fa due milioni e mezzo. Quindi le grandi città italiane sono fatte dalle province. Noi siamo un paese di provincia. Il fatto di appartenere a quella zona secondo me mi ha dato un connotato specifico nel fare il rap e secondo me ce l'ha dato. Perché anche poi Raiden veniva comunque anche lui dalla provincia. Quindi ce l'ha fatto fare in maniera diversa. Noi facevamo in maniera diversa rispetto ai ragazzi di Torino. La territorialità in generale è sempre una cosa molto forte nel rap. Quindi noi abbiamo detto più Torino, Black City, l'abbiamo dato questo nome. I ragazzi la chiamano ancora così la città. Quando io sentivo i rapper italiani venire a suonare a Torino e dire buonasera Black City per noi era... Motivo di orgoglio. Cioè l'abbiamo messa sulla mappa sul serio, no? Mi ricordo un'affezionaria. Cioè una delle cose che mi piaceva a loro è Black City Torino, no? C'era sta roba che veniva da Torino, una realtà alpignano, poi c'era Sicilia De Mezzo, c'erano un po' di cose, però era un motivo per affezionarsi in realtà a Torino, no? Faccio un cazzo di rumore ai Black City, Siri! One love! Questo è Enzi, lo faccio per la City dal giorno zero, lo sai! Una cazzo di mano al cielo per gli amici di Vita. Il nostro stile è stato meno influenzato dai rapper forti di Torino ed è stato più influenzato dai nostri ascolti perché noi non potevamo venire qua tutti i giorni. Non portavamo tutti i giorni qua le nostre rime, terreno di confronto con gli altri. Era una volta una tanto. Quando poi abbiamo iniziato, secondo me, a definire meglio questa cosa è stato proprio anche da parte della scena di Torino, secondo me interesse nel dire ok, questi qua fanno la loro roba, non sono proprio hyper local come noi, se vogliamo, ok? Non sono dei rat de ville, però è come se in qualche modo rappresentassero la città. E questa qua però è una cosa che magari è dura da digerire, ma te la danno i meriti, alla fin fine, no? E quel contesto ci ha dato un connotato diverso. Cioè, se noi non fossimo nati e cresciuti come siamo nati e cresciuti e dove siamo nati e cresciuti non avremmo fatto la musica che abbiamo fatto, semplicemente. E poi c'era proprio il concetto della via Crucis, no? Si passava di locale in locale fino agli after che duravano fino alle 10 del mattino, 11 del mattino. Adesso sembra normale che ci sono serate dove su 10 pezzi 7 sono italiani, giustamente questo dà anche un grande volano a tutte le persone che fanno musica in italiano. Ma ai tempi non esisteva questa cosa. Quindi il piccolo episodio di freestyle, il piccolo showcase o quella cosa che iniziavamo a fare ce lo vivevi proprio come una conquista, no? Perché l'hip hop stava prendendo piede e si capiva che sarebbe entrato, insomma, dalla porta principale se prima era entrato dall'uscita di sicurezza. Quindi i locali hanno fatto a gara per accapararsi il DJ in grado sia di farti la selecta giusta ma anche di portarti poi personalità giusta all'interno dei locali che magari erano di riferimento per la città. Il primo tecnico è perfetto quando ancora non era itinerante, era una battaglia di freestyle organizzata vicino a Torino dove partecipavano un po' tutti i freestyler più forti d'Italia. Io avevo già fatto la... mi abbatto il controchiffa, quindi diciamo avevo la città da difendere. Batesi, guardatemi le batesi, mi sembra epic, spreso! Mi chiesero di fare uno show anche, però io non avevo dei pezzi, avevo qualche strofa. Allora avevano i pezzi, ho detto ragazzi potremmo... No, uniamo le cose. Il nome One Mic, era One Mike di Nas, italianizzato. Quindi avevamo il... con un font orribile... Con una scritta davanti. Con delle maglie, con dei tagli orribili ovviamente, però l'outfit non contava allora. Quindi quando uscì il promo, io mi ricordo che avevamo un po' di numeri di telefono, un po' di... e l'abbiamo mandato a tutti. Cioè io di... mi ho... Spedivano. Sì, dalla posta ne ho spediti 5 copie, avevo chiesto a Jake se mi davano l'indirizzo, ma mi aveva dato quello di Vincenzone. Stessa cosa era successo poi a... Oh, se becchi quello, daglielo, no? Sì, sì. E quindi, chissà come, torme, riceve questo coso e ci telefona. Sono tornato a casa e appena l'ho sentito comunque sono stato subito colpito. La prima cosa che ho fatto, infatti, è stato telefonare al numero di telefono che c'era dietro il demo. Mi ero accorto subito che loro spaccavano perché erano in tre tutti bravissimi a scrivere, tutti bravissimi a repare, giovanissimi. Quindi io me lo ricordo quando gli squilla il cellulare a lui e inizia a girare per la camera così e io gli dico, chi è? E lui mi fa tormento. Io mi dico, ma vaffanculo, non ci credevo, lo pigliamo per il culo. Quindi ci mettiamo così da ascoltare e cazzo ci faceva i complimenti per quella roba. Non c'era nessuno, soprattutto. Il rap in quegli anni non era affatto di quelle cose là. I ragazzi dei quartieri, dei quartieri pesanti, non ascoltavano il rap e non facevano rap. Ce n'erano pochissimi che arrivavano da quei contesti e arrivando da quei contesti che non avevano nulla a che fare con l'hip hop. Facevano un passo indietro da quel contesto. Adesso i ragazzi arrivano da ogni estrazione, arrivano anche dalle situazioni peggiori, raccontano determinate cose, fanno vedere nell'immaginario determinate cose perché quella roba lì ormai è di tutti, è fruibile e non è neanche una storia così innovativa. Per noi era più innovativi essere dei ragazzi di Torino che facevano rap in quella maniera, che dicevano quelle cose piuttosto che accodarci a un immaginario comune che si poteva avere allora. La letteratura e la metrica, la scrittura. Cioè quando chiudi qualcosa in maniera figa, si sente. Essere rapper non vuol dire essere ignorante. Cioè puoi essere ignorante nell'attitudine, ma fra, dille due cose. E lì ce n'era di cultura. Ce n'era un botto. Non c'erano solo più le leggende, non c'era solo più il caos o i sottotono, che comunque li abbiamo visti purtroppo essere distrutti in televisione da un meccanismo che non capiva e non ci capiva, che provava quasi di coda dagli anni 90 ancora a dargli questa cosa qui. Ma il rap non era più destinato a quella roba lì. Noi un po' lo soffrivamo, ma in realtà dentro di noi sapevamo che questa roba stava crescendo perché il livello del rap si stava alzando. Non erano più in tre a essere bravi. Oggi Milano è il centro di tutto, ma perché tutti i rapper da tutta Italia sono confluiti in questa città. Invece in realtà all'epoca i grossi centri erano Torino, Bologna e Milano. A me che magari si sono ritrovati in una realtà in cui tutto si stava spostando verso Milano, ma perché davvero tutti i rapper confluivano verso quella città. E poi la realtà dei fatti è che noi arriviamo nella grande depressione del rap italiano. Non arriviamo a metà anni 90 o primi anni 90 dove sta roba era boom. Arriviamo appunto nel 98-99, inizialmente voi, io 2000 più o meno, primi 2000, anche andare, non lo so, nei luoghi culto di Torino come Regio non era più il 94. Quindi anche gli esponenti della città non erano più al vertice. Io mi sentivo un po', immagino anche voi, come dire cazzo siamo arrivati troppo tardi, sta roba è finita. Cioè ci siamo appassionati di una... E in realtà, in realtà non lo capivamo, ma era l'inizio di tutto. Abbiamo evoluto proprio uno stile nostro, nel senso che anche io mi ricordo in quei tempi magari qualcuno usava una metrica tra noi tre per la prima volta, allora gli altri poi prendevano questa cosa, la evolvevano, cioè ci stimolavamo a vicenda. Cosa bella di One Mic, secondo me, è che c'era tra di noi competizione sana. Sì, sì, è vero. E questo ci portava inevitabilmente che ti svegliavi il giorno dopo ed eri più forte del giorno prima perché avevi per forza necessità di essere. Se non ti sentivi abbastanza richiamato da sta roba non saresti mai andato avanti, perché chiaramente tutto il mondo attorno a te andava in una direzione opposta. Dopo tecnica perfetta, alla fine sta cosa funziona, il trio funziona, e guarda caso noi eravamo iperallenati a fare freestyle. Io sono venuto un po' più fuori perché magari ho vinto le competizioni nel momento giusto, le più importanti, ma noi c'è stato un momento dove prendevamo il treno o la macchina con altri quattro amici così scappati di casa e ci buttavamo da un'altra parte, ovunque, pur di fare una battle di freestyle. Era l'unico modo per farsi vedere. Infatti direi che i primi lavori che abbiamo fatto, a partire dal promo, ma forse probabilmente anche sotto la cintura, non c'era l'esigenza di voler fare un prodotto discografico. Torno indietro, guardo all'esterno nel 2004, quello che usciva c'era, parliamo di nuovo di questo codice, dannatissimo codice, cioè chi faceva musica, i nostri diretti competitor, se così vogliamo chiamarli, lo facevano in un modo diverso. Noi, chi paga delle volte, volevamo già parlare alle persone normali, adesso, alle persone che non appartenevano alla nostra cultura. Cioè, l'idea era già di andare lì. Ma senza farla apposta. Era il linguaggio nostro che era quello. Era il nostro modo di esporci. Noi avevamo già ricevuto un po' di props perché magari ci avevano visto dal vivo o qualcuno gliel'aveva detto. Perché il rap era una musica che si parlava molto addosso e parlava soprattutto ai rapper, per cui, se posso permettermi, era una grande rottura di coglioni a quel tempo il rap. Cioè, se tu ce la facevi, a quel momento, da quel momento in poi, diventavi un nemico, no? Della scena underground, eccetera, eccetera. Stiamo parlando di un ambiente che era difficile da connettere, ma era comunque piccolo. Quindi una volta che hai fatto breccia già in quei due o tre nomi, quella roba è oh, chi sono questi qua di Torino? E comunque il fatto di aver avuto delle famiglie che hanno sempre capito, accettato, sia la mia che la loro, al giorno zero è comunque una fortuna, è un privilegio perché se uno contestualizza, ma è una persona di 40, 50 anni ai tempi che ascoltava il rap, fatto come lo facevamo noi, vestiti larghi, è come se ci fossero gli alieni. Non è scontato che un genitore ti dica sono fiero di te, vai, segui i tuoi sogni. I nostri genitori erano molto più contenti del fatto che non ci vedessero perdere del tempo in altre cose o il fatto che questa cosa ci teneva molto impegnati e concentrati su questa roba e lo dico anche da genitore, questo era, secondo me, per loro un sollievo. Quando mi dici che vuoi fare musica, no? Per un genitore è motivo di vanto e di orgoglio. Secondo me, se noi non capivamo cosa stessimo facendo e per tutti i motivi che ci siamo detti precedentemente, non c'era la visione di insieme di un business, figurati chi era di fianco a noi. Mi ricordo mio padre quando ho deciso nel 2010 di mollare completamente il lavoro per dedicarmi alla musica e l'unica cosa che mi disse è i piccioli li fai, c'è soldi ne fai? Ho detto sì papà abbastanza per poterci provare. Per lui era sufficiente questo perché comunque arriviamo da famiglie di lavoratori, per noi era importante cosa fai nella vita? Mantieniti, costruisciti qualcosa. Ci tenevano a quello. Poi per nostra madre nello specifico il fatto che l'abbiamo fatto con la musica camminava tanto così da terra lei. Uscì poi nel 2005 sotto la cintura che è stato il primo disco ufficiale anche per contestualizzare il fatto che c'era proprio un percorso lungo ai tempi. Non c'erano mai... Anche fare un disco era una cosa impegnativa economicamente. Come tempi, come capire dove farlo usci. Arrivare a connettersi per avere dei producer all'interno dell'album che non fossero della zona, quindi non fossero dei local per arrivare ad avere Zonta, Rubo. E quindi abbiamo iniziato a dire spingiamo su sta roba delle battle perché poi Post 8 Mile fioccavano battle con premi ovunque. Noi avevamo questa skills e abbiamo detto come cazzo ce lo paghiamo il disco? Comunque nessuno di noi aveva la possibilità di mettere avanti dei soldi per fare un album. E quindi abbiamo detto ok, da adesso in poi ci iscriviamo a tutte le gare dove possiamo arrivare, dove c'è un premio in denaro e lo mettiamo in un cassetto comune per fare il disco dei One Meek. Noi andavamo Raiden primo, Rage secondo, Nancy terzo, io primo, lui secondo, lui terzo, cioè era così, podio smezzato. Almeno uno finiva sul podio. Finiamo il disco e non abbiamo più un euro. Però abbiamo il disco. Però abbiamo il disco. Fare questo disco era stato molto bello anche per me magari che avevo un po' più un lato da produttore oltre che da rapper perché lavoravo in studio con Shock e Zonta mi ricordo che facciamo vedere che mettevano gli accenti sui piattini per farli suonare di nà. Io rubavo una roba da loro poi andavo da Bassi a fare un'altra cosa vedevo come arrangiava un synth quindi è stato molto bello poter lavorare con gente. Sì, per noi erano stati idoli di infanzia anche uno come Bassi per me era un Gesù bambino. E c'era talmente tanta difficoltà a reperire informazioni a entrare in contatto con gli altri che nel momento in cui ti ritroviamo in certe situazioni era evidente che te le eri A guadagnate bisudate e in qualche modo acquisivi acquisivi conoscenza. La seconda metà del primo decennio del 2000 erano caratterizzati a guardarsi adesso indietro da un rap molto molto autoreferenziale era un rap che parlava di rap sostanzialmente non che fosse brutto ma era un po' un dato di fatto e sotto la cintura penso sia diventato un classico anche e soprattutto per quello e poi anche con i lavori successivi anche proprio per l'imprinting secondo me che ha dato alle voci singole che poi si sono sviluppate a livello di carriera proprio quindi Enzi Raiden e Rage E poi era proprio il concetto dell'arte per l'arte ci piaceva fare la musica perché ci appagava esatto non c'era niente di collaterale che è una cosa che a pensare adesso c'è anche difficile da immaginarsi però era proprio così La realtà è che volevamo spaccare Quella era la realtà Questa era la verità non esisteva nulla se non che primeggiare Era una mentalità un po' anche cioè la competizione che stimola il talento giustamente un po' poi mischiata anche a l'età che quindi hai voglia proprio di spaccare tutto e poi ricordiamo il contesto la nostra era proprio una controcultura non c'entrava un cazzo con gli altri quindi ti sentivi ancora più forgiato da sta roba di essere unico di essere diverso di parte di un movimento mettetevi a rappare mettetevi a infucare il moleskin come facevano sti figli di puttana perché è l'unica cosa importante che c'è da fare e guardatevi to the beat guardatevi i video che restano del tecnico perfette mi ricordo che dopo il to the beat abbiamo fatto poi una presentazione a Torino e qualcosa era di nuovo cambiato era una presentazione a Torino si era abituato ad avere i classici dieci amici e c'era invece tantissima gente quindi qualcosa era passato sotto la cintura fu stampato quattro volte comunque in anni non sospetti col tempo è diventato secondo me un disco occulto quello abbiamo dovuto aspettare un po' di anni per capirlo non era così immediato vabbè ma quando sei dentro le cose non te ne accorgi la cintura era quella roba che appena uscito bucava non dico che devi essere per forza l'iricista a chiudere le quadruple ogni pezzo che fai anche se è un piacere sentirlo ancora ma cerca di portare qualcosa se no che cazzo lo fai a fare quindi ascoltati i one me la vera merda italiana e non per capire che è come andare a scuola se non meglio secondo me e davvero c'è una quantità sotto la cintura riascoltato anche ultimamente sono delle macchine cioè sono delle mitragliatrici di nozioni in punchline e che cazzo vuoi di più non c'era niente di quel tipo in quel periodo perché c'erano i già molto conosciuti e famosi club dog e c'erano tanti emoli dei club dog e loro invece facevano un'altra cosa devo molto al posizionamento nelle battle di freestyle noi noi non abbiamo mai vissuto secondo me uno nei confronti dell'altro un come si può dire un'invidia o delle gelosie o delle cose io questa cosa di essere di aver vinto il to the beat la mettevo a servizio dei one meek anche perché io non avevo il disco da promuovere non è che dicevo la mia roba per me c'era one meek paradossalmente è stato più difficile per me negli anni togliermi questa cosa cioè ci ho messo tanto sono dovuto arrivare a sotto era tutto un sogno nel 2012 dopo Spit ho dovuto mettere una pietra sopra da lì in poi farlo sempre di meno impegnarmi tanto sui dischi e farmi tre volte il culo rispetto a tanti altri colleghi altrimenti rimani sempre quella roba là ma io mi ricordo anche proprio il to the beat poi vabbè raga al primo sorteggio c'è Enzi contro Torment io l'imitazione di Fibra e Torment lo sa la inventai a casa sua quella famosa volta a Varazze e li facevo ridere ma loro ancora non c'era stata quella cosa fra di loro e ci fu poco dopo quindi vado al to the beat ovviamente mio fratello mi fa se Becchi Torment subito vai con Fabri immediato e io no 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 lui era un pezzo di merda subito vai con Fabri ho detto no no però se lo dice lui se lo dice lui lo dico e infatti lui chiude altro che Enzi voglio Fabri Fibra se uno guarda il video si vede io che mi giro e guardo lui e dico eh vabbè ora ci sei cascato è vero pure quello stronzo me lo fumo che sfiga altro che Enzi voglio Fabri Fibra cazzo Yoshi e che è Tormento Varese yeah yo tutto è pinto ragazzi questa è una finale già ok adesso 60 sec per Enzi Torino un'altra volta ok un'altra rima è solo altissimo lui Fabri Fibra io lo imito bellissimo ehi Tormento questo stilo puoi vederlo arrivo con lo stilo picchio tempo il tuo fratello lo stilo che ti porto amico noi un mento non canto come un gay come quel cazzo di Tormento ok adesso basta imitare cazzo tocca in sé tu ti devi un po' scappare e questo stile te lo porto tengo sempre a pensare anche al fatto che sotto la cintura è del 2005 l'anno dopo iniziano a cambiare le cose ragazzi perché iniziano i primi rapper italiani finalmente di nuovo sono firmati per le multinazionali esce Tradimento esce aspettiamo il secondo album dei Club Dogo tutti lo aspettano Mondo Marcio esce Mondo Marcio eravamo passati da vedere 100 persone al massimo una festa a 5000 persone al to the beat questa roba esiste è destinata ad andare per noi era è chiaro questa sarà la nostra vita per sempre subito dopo sotto la cintura l'anno dopo esce il primo disco solista della tripletta One Mic quindi quando abbiamo capito di non riuscire a fare un secondo capitolo nell'immediato l'idea era quella di ok allora ognuno lavora qualcosa di suo coinvolgendo gli altri quindi era comunque un lavoro corale infatti Toraki Calma e Vendetta sono comunque tre dischi nei quali noi siamo molto presenti il bello dei One Mic secondo me è proprio quello che sono tre mondi compressi in uno anzi addirittura il fatto che Enzi e Rage siano fratelli è quasi incredibile poi invece come siano complementari ma ognuno entrambi completamente su uno stile personale proprio l'esigenza di voler fare delle cose io avevo conosciuto Zonta per esempio tramite One Mic perché su sotto la cintura Zonta aveva già prodotto due tracce su MSN lui mi mandava i beat e mi diceva beh ma facciamo una cosa io e te io lo vedevo da fuori e dicevo cazzo si sta trasformando in qualcosa ed ero molto non invidioso perché non era invidia era sana competizione che mi portò a dire cazzo quando farò il mio disco deve essere più figo di Tora Key poi nessun disco su lista dei nostri fu più figo di Tora Key questo va detto poi viene detto che secondo me proprio a livello di sound ci sono delle strumenti che fa spavere fortissime io anche quando sono riascoltato nel lockdown c'era tanto proprio ci suonava veramente come le robe che ascoltavamo c'erano delle produzioni da paura Rage ha fatto uno dei miei top 3 dischi preferiti Tora Key che è in assoluto un capolavoro italiano ecco qui torna l'influenza dei One Mic anche nel mio modo di scrivere con commerciale poi abbiamo cercato di fare emulare quello che era successo sotto la cintura quindi vivendolo insieme scrivendolo insieme molte cose sono scritte proprio a sei mani a tre mani all'interno di quel disco lì ma con tutto il fatto che noi venivamo da tre bagagli totalmente diversi perché poi c'era stato dal 2005 al 2011 sei anni in cui ognuno di noi aveva avuto in modo la possibilità la volontà la voglia e la fortuna di potersi esprimere in modo diverso poi commerciale è un disco molto più completo molto più forte molto più strutturato rispetto a sotto la cintura ma c'è una differenza di peso sostanziale fra i due album in quella fase lì cioè in quel momento storico me lo ricordo anche un po' da pubblico perché io stavo durante commerciale stavo scrivendo le prime cose il primo disco forse e da pubblico mi ricordo che c'era molto quella divisione commerciale appunto underground loro sono stati i primi un po' a sdoganare questa cosa hanno pagato lo scotto forse per i One Mic che erano un po' più legati alla scena hip hop soprattutto Anzi era molto dentro la scena hip hop era difficile cercare di fare delle cose che fossero un po' più mainstream però alla fine a me sembra che commerciale il disco commerciale non fosse così mainstream fosse appunto l'evoluzione di quello che erano nel disco prima commerciale è uscito in un momento in cui c'era un po' di casino nel senso perché di pop come era già successo una decina di anni prima nel 2000 non era molto gradito dai media con i Club Dogo è nata proprio l'underground che è diventata mainstream questo fatto del commerciale è un fatto che ci siamo portati indietro per decenni credo che adesso sia finito finalmente perché era veramente una rottura di coglioni diciamo che all'epoca commerciale era qualsiasi cosa facesse successo ho cercato di trasmettere anche ai ragazzi una cosa fondamentale di non curarsi mai di quello che diceva la gente perché la gente un giorno c'è un giorno non c'è io mi permetto di dire che siamo stati tra quelli che hanno cercato di equilibrare forma e contenuto a un livello veramente alto erano tre rapper che vogliamo farli pop in una maniera bella appunto adesso probabilmente avrebbero dieci volte tanto il successo che hanno avuto con commerciale prima era quella roba a metà che non alcuni non capivano bene secondo me One Mic hanno dimostrato che potevi essere anche te stesso perché noi non abbiamo mai esaltato storie di strada io e Alex potevamo parlare di tante cose non l'abbiamo mai fatto in quella chiave non abbiamo mai messo davanti le nostre difficoltà per sembrare più cool non abbiamo mai messo di fronte i nostri risultati ottenuti per sembrare più fighi abbiamo parlato delle nostre cose abbiamo parlato dei rapporti è quello che è rimasta la gente abbiamo parlato delle persone credo che One Mic abbiano dato modo alle penne di venire fuori anche quelli che non si accontentavano di fare solo la rima da battaglia se c'era da fare la rima da battaglia ma che volevano fare anche volevano anche parlare della loro storia anche proprio un disco come commerciale per quanto non abbia avuto un eco mainstream gigantesco ha contribuito era un altro mattone che ha permesso questo shift questo spostamento questa apertura del rap anche al di fuori di dei canoni puristi che magari per tanto tempo lo hanno limitato e poi per scelta propria perché a differenza di come funzionano le cose di nuovo dall'altra parte dell'oceano questa autolimitazione purista era tutta self made dopo commerciale devo essere onesto era un disco che probabilmente piaceva tanto a me non so se a loro piacesse come piaceva a me succede che però arrivano delle esigenze di tipo puramente e meramente economico nel senso io personalmente mi trovo davanti al bivio di dire se io devo continuare a fare musica nella mia vita deve esserci un ritorno di tipo economico perché se non esiste questo non posso permettermi di farlo l'aspetto più complicato di far parte di un gruppo e far andare d'accordo un gruppo è soprattutto nel caso di un grosso successo far andare d'accordo l'ego dei componenti e poi lavorativamente parlando è mettere d'accordo due, tre, quattro, cinque persone a seconda di quante persone ci sono in un gruppo nel momento storico in realtà parliamoci chiaro One Mic non interessavano a livello discografico e interessavano le realtà singole stiamo parlando di 2011 2012 stava cambiando la discografia e il rap iniziava a diventare non solo interessante ma influente a livello numerico quando c'è stato il momento di dire ok è giusto riuniamo la roba a livello artistico sarebbe stato più difficile trovare un punto d'incontro che invece con sotto la cintura non c'era manco da parlarne noi non abbiamo mai dichiarato lo scegliamento del gruppo a tutti gli effetti perché effettivamente il gruppo non si è mai sciolto il gruppo è congelato non ha fatto cose magari si scongela magari no quello che sono contento che non abbiamo fatto è che non abbiamo mai intaccato il nome dei One Mic di tanto così siamo rimasti così tanto con due albumi in vent'anni pensate se non vi scoppiava la testa che volevate fare i solisti no scherzo noi non abbiamo placche dei One Mic ok non abbiamo certificazione non abbiamo niente che dice voi avete questo peso specifico nel game però chi ne sa di rap mette One Mic nel posto dove devono stare e questo con due dischi all'attivo mi sembra un traguardo non da poco se chiudete gli occhi un attimo il nostro gruppo in attività a oggi senza me aver mai cambiato rotta fucking legend si si untouchable no? vedo fish con lo sguardo verso dietro al monitor di sta roba pure lui è malato cronico dammi un microfono una strumentale io non mi monto la testa ma ti smonto il locale restando con i piedi piantati per terra questo è poco il cazzo raga questa è guerra senza pistole con le parole mai c'è one two questo c'è one two e questo c'è la mia gente come me totalmente dipendente la mia gente come me